ciao qui li prandi dal tabaccaio sotto casa abbiamo trovato questi leccarecca ciupa ciups e sono i leccarecca più famosi del mondo pensate un pochino nati a barcellona nel 1958 e a volte hanno delle sorpresine molto carine in questo periodo ci sono i luni tunes erano personaggi fantastici di cartoni animati veramente innovativi ed estremamente divertenti ineguagliabili ed ineguagliati beh allora apriamo questi due leccarecca e scopriamo cosa c'è insieme come sorpresina dunque qui dice di tirare qua per aprirlo vediamo se riuscirò a farlo senza combinare disastri ok abbiamo una capsula in plastica che contiene il leccarecca e poi anche il nostro giocattolino si spera bella confezione molto carina premiamo qui e questo ci permetterà di separare le due metà questo è il nostro ciupa ciup eccolo poi io adesso tutte le mattine mi guardo kojak e lui ha sempre questo leccarecca in bocca quindi direi che torna giusto giusto fa il caso nostro ed ecco il nostro piccolo bugs bunny la nostra sorpresina allora la guarderemo meglio tra un istante questa è la checklist di tutti i personaggi disponibili sono dieci e sono beh i più famosi ci sono quasi tutti direi che manca elmer fad purtroppo il cacciatore però abbiamo daffy duck tweet i tt canarino per noi il gatto silvestro silvestro the cat poi bugs bunny abbiamo wiley coyote il road runner bibb per noi abbiamo il diavolo della tasmania tas ha avuto una serie animata tutta sua negli anni 90 che ha avuto un successo qui questo è fogon leghorn quindi galletto del pollaio qui abbiamo porchi pig e poi marvin il marziano il personaggino veramente minuscolo lo troviamo in questa bustina di plastica lo tiriamo subito fuori ed eccolo qui un piccolo bugs bunny in gomma rigida lo hanno dipinto chiaramente piccolo così la precisione non sarà il massimo e stranamente ricorda il look un pochino più vecchio del personaggio quello dei primi cartoni animati non so se sia intenzionale insomma non è bellissimo ma è un personaggino 3d non fatto malaccio ci giocheremo volentieri magari in un ambientino potremmo farci un pochino di di boschetto tutto stilizzato per il nostro pupazzetto tocca al secondo allora apriamolo tiriamo di nuovo la linguetta in plastica qui vediamo se riusciamo a farlo senza aiutarci con strumenti strani anche se non saprei cosa qua vicino c'è una penna biro potrei usare quella no non ci servirà forse riusciamo a cavarcela anche senza ecco qui più o meno ci stiamo riuscendo allora via questa plastichina perfetto premiamo il bottone chupa chups di nuovo sarà un doppione o non sarà un doppione cosa troveremo qui dentro non è un doppione perfetto abbiamo trovato il roadrunner il nostro bibbip anche lui è molto piccolo in gomma e ha dipinto in realtà tutto il necessario quindi non è mal realizzato come pupazzino è proprio piccolino quindi non potevamo aspettarci chissà cosa chi è vecchio come noi ricorda forse quelli che si trovavano nel lovetto kinder nei primissimi primissimi anni 90 erano ben più grandi quelli la questi sono ancora più piccoli eccoli qua due personaggini immagino che completare la collezione sarebbe carino avere un pochino di varietà eccoli qua sorpresine carine non brutti per niente abbiamo pagato 2 euro l'uno questi chupa chup con sorpresa non sono economicissimi forse un lovetto kinder costa di meno però poi qual è il vostro gusto di chupa chup preferito ne esistono più di 100 diversi voi già conoscevate questa collezione l'avete già completata forse quante caramelle avete mangiato per completarla quanti denti ci costerà completare la collezione allora fateci sapere se il video vi è piaciuto cliccando qui su mi piace iscrivetevi al nostro canale bolino blu riprandi ci sono un sacco di giocattoli per tutti ciao